Il progetto La Casa Sicura è arrivato a Matera, è la terza tappa del secondo anno, già abbiamo girato 10 città, quindi siamo a 13, un progetto realizzato insieme a Prosiel per portare la sicurezza dell'impianto elettrico ai cittadini e soprattutto informarli su come risparmiare sulle bollette. Tutto il giorno troverete il nostro gazebo con i nostri tecnici, saranno lì per darvi del materiale necessario e per darvi le informazioni. Informazioni fondamentali per sapere se il vostro impianto è a norma, infatti questo progetto prevede per tutta la regione della Basilicata ma anche per tutta Italia, andando sul sito lacasasicura.org, di poter avere a casa un tecnico gratuitamente che farà una verifica, vi dirà se il vostro impianto è a norma. Noi normalmente siamo poco consapevoli di quanto sia importante avere un impianto elettrico sicuro nella vostra abitazione, ce ne accorgiamo solamente quando c'è qualche incidente o purtroppo quando c'è qualche incidente grave che porta anche alla morte e allora lì siamo molto attenti. Però il punto è che bisognerebbe fare manutenzione dell'impianto elettrico. Noi ci dimentichiamo che noi utilizzatori, noi proprietari di casa, siamo i responsabili della manutenzione del nostro impianto. Non lo sappiamo, non ne siamo consapevoli, lo trascuriamo e quindi questo non è una cosa positiva. Nel 2020 abbiamo fatto un'indagine con l'Istituto Piepoli ed è emerso che ci sono persone che vivono nella loro abitazione da 20-25 anni, pensano di avere un impianto sicuro. Magari lo è, ma potrebbe non esserlo.